22 ottobre 2011, squadra blu, squadra bianca, squadra blu Mario Mazza, Michela Lì, Nando Rapisarda, Enrico Stinflu, Simone Giuffrida, c'è il telefono, Fabio Siringo, e basta, per il momento questo, e Alberto Spitaleri, squadra bianca, scusami, Momo, Maria, Dario Leonardo, special guest, Mario Di Re, Simone, Gianni Bacchiato, Andrea Scavo, questo al momento.